E' fissato per lunedì prossimo il riesame davanti al Tribunale di Roma dove si deciderà sulle misure personali che ora sono applicate con l'ordinanza di custodia caudelare del GIP d'Auria su richiesta della TDA di Roma. Il Tribunale della Libertà è il Tribunale che si pronuncia proprio per fare un vaglio di rivisitazione di quelle che sono le considerazioni fatte dal giudice al momento di applicazione della misura custodiale in carcere. I due indagati rispondono di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, secondo me non ci sono i presupposti per poter fare una contestazione di questo tipo, ci sono degli elementi indiziari ma che attengono a probabilmente un uso personale o comunque a elementi che non lasciano ipotizzare ipotesi delittuose così grave. Ricordiamo che l'articolo 74 del DPR, i reati fini, sono previste in Italia sanzioni editali e pene che superano spesso i 10-15 anni di reclusione, quindi gli elementi necessari a nostro avviso debbano essere ben altri rispetto a quelli raccolti. Stando alle imputazioni loro vengono ritenute partecipi di un sodalizio dedico al traffico di stupefacenti qui nel territorio italiano e nel sud pontino, quindi è chiaro che il codice prevede pene molto gravi dai 10 anni a salire, quindi è un'ipotesi che però francamente è a mente della volontà del legislatore finalizzata a punire reati che prevedano il traffico di stupefacenti per quantitativi rilevanti, grossi quantitativi di chili, di numerosi grammi, qui parliamo di 2 grammi, 3 grammi, 20 euro, 30 euro, insomma oggettivamente ricostruire tutto questo sulla base di somme e quantitativi così esigui mi sembra oggettivamente un eccesso. Alessandro Forcina è l'indagato di Minturno che è stato tratto in arresto in Germania, a Monaco di Baviera per la precisione, è stato tratto in arresto a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso dalla Proglie della Repubblica presso il Tribunale di Roma su richiesta della DDA, è chiaramente stato poi raggiunto sul territorio tedesco dalle forze speciali e tradotto nel carcere in attesa dell'estradizione richiesta dall'Italia, estradizione alla quale noi peraltro ne io, ne il collega Pfizer di Monaco di Baviera ci siamo opposti proprio perché riteniamo che la sua presenza in Italia sia importante per chiarire gli aspetti di questa vicenda, vicenda che risale a 5-6 anni fa, questo ragazzo in Germania era perfettamente inserito, lavorava, aveva una famiglia, una bimba, faceva l'operaio, aveva un suo stipendio regolare, sono frutto di dinamiche giovanili di molti anni fa e che poi in Italia spesso dove la giustizia magari arriva un po' in ritardo ci si ritrova a fare i conti con fatti o contestazioni risalenti, magari nel 2021, ecco stiamo ragionando di fatti al 2015-2016. Loro sono tutti indagati, un po' sorpresi per la gravità delle contestazioni così come formulate, io attenderei lunedì che c'è l'udienza Tribunale del Riesame per poter poi pronunciarci in maniera più netta su quelle che sono le contestazioni e sulla tenuta che le stesse apranno in sede di gravità indiziaria, non sarebbe del resto la prima volta che condotte ritenute apparentemente di particolare rilevanza, di altissimo allarme sociale, poi magari all'esito della verifica del Riesame si sgretolano e residuano episodi marginali. Riguardo Alessandro Forcina è stata presentata istanza di Riesame, sebbene lui al momento si trovi a Monaco di Baviera, nei prossimi giorni verrà fissata l'udienza e per lui ancora non è fissata l'udienza di Riesame perché non andrà chiaramente insieme al gruppo degli altri indagati che hanno fissato l'udienza per lunedì 8 febbraio, proprio perché lui ha avuto un percorso della misura cautelare diverso in quanto non presente sul territorio italiano. Abbiamo avanzato comunque istanza al Tribunale della Libertà anche per la sua posizione, siamo in attesa che il Tribunale fissi l'udienza per le valutazioni del caso.